Finalmente l'orgoglio nostro, un film nel quale si racconta una storia drammatica ma la difficoltà più grande del papà dove spiegare al figlio perché si trova all'interno di un campo di concentramento. Avete capito che stiamo parlando di La vita è bella, di Roberto Bellini. La vita è bella. 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 Buongiorno principessa. La vita è bella. 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 Sì, sì, sì. Prost! Edo! Cosa faccio? Prost! Edo! Cosa faccio? Cosa faccio? Prost! Prost! Cosa faccio? Cosa faccio? questa è la mia storia questa è la mia storia questo è il esempio che mio padre ha fatto questo è stato il suo regalo per prima abbiamo visto sì abbiamo visto prima è potuta schiantare e ridere prima si ritorna a casa con il carne al pago abbiamo visto grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti